Salve a tutti ragazzi e ragazze trans e benvenuti su questo nuovissimo video Oggi sono qui per fare una partita Call of Duty Black Ops 3 A luna di notte Sarebbe stato più sensato fare una partita Black Ops 3 alle 3 di notte Però bisogna ingegnarsi un attimo Io già alle 10 svengo dal sonno Oggi siamo in Zombie, in Naush The Run Totten Perché è una mappa che ho giocato molto nel passato E che sinceramente mi piace un sacco E poi è ambientata proprio di notte Speriamo di non fare schifo come il nostro solito Come il mio solito Direi che subito di prenderci sta arma Perché è utile a sto round Ah tra l'altro ragazzi ho anche cambiato tappetino per il mouse Quello dell'altra volta faceva schifo Non so che cazzo vi serve saperlo però E luna di notte io non è che posso molto cacciare argomenti sensati Qui è luna di notte che fate? Dormite Riposate Io gioco a code Poi ho scoperto che ci sono anche le persone che si guardano i film Luna di notte Cioè luna di notte probabilmente le persone neanche dormono Ma fanno di tutto tranne giocare ai videogiochi secondo me Al massimo al mezzanotte Perché io conosco persone che fino a mezzanotte O fino addirittura alle 4 di mattino Del mattino si leggono le storie erotiche C'è un'amica che si legge le storie erotiche alle 4 del mattino perché non sa che cazzo fare Voi invece che fate luna di notte dormite come tutte le persone normali Comunque abbiamo mille e passa punti Quindi andiamo ad aprire Ma quanto è simpatico lei Quest'arma forse me la devo prendere Vedremo in futuro Oppure io posso prendere anche questa Naccio di notte nel piano di armi Buone tra virgolette Anche perché è molto facile girare intorno Guardate che l'istakill in realtà non ammazza con un colpo Ma in realtà Mira sempre la testa E' per questo che alcune persone si trovano L'istakill che non Che diciamo non ammazza alcuna tentativa Ok E' come se mirate costantemente la testa Tanto ragazzi sto installando un warzone Chi mi segue su instagram Sa che cosa sto passando in questo momento Questo video probabilmente non lo caricherò alla luna di notte O forse in realtà potrei Potrei tranquillamente caricarlo alla luna di notte Ma non so che cazzo se lo guarderebbe Ma io direi che questa pistolezza inizia ad essere abbastanza inutile Quindi o ci prendiamo questo POMPA Oppure questo Io direi C'è anche la cassa sotto Ma la cassa non mi ispira Andiamoci il pompo Che se ne frega Ammazzati due con un solo colpo Non sta qua Non sta di qui Quanta troia Quanti ce ne sono Sembra un smr ragazzi Guardate questo video per rilassarvi Quando tipo non riuscite a dormire La mia bellissima voce E i suoni di code Forse vi aiuteranno a dormire Forse vi aiuteranno a dormire Ci metto il silenziatore Se ve lo aspettate lo tolgo E inizio a sparare la raffica con la minican Così se tenevate il volume al massimo Svegliate vicini E se avevate le cuffie vi perforate i limponi Sono accedendo a notte E non ci stanno veramente Un cazzo di bibite No 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 Ok Sono riuscito A schivarlo Non so Per quale motivo Ma io direi Un altro round E poi questo video Molto smr Ce lo dimentichiamo Punterei anche A round più alti Se non fosse Che sto registrando E che è l'una di notte Facciamoci una cassa Non è la migliore delle cose Ma è smiratissima Starm Noi ridiamo e scherziamo Ma quanto cazzo è bella La grafica di Black Ops 3 Zombie Soprattutto in sta mappa Oh Va bene ragazzi Se questo video notturno Vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Datele una bella venata Se volete condividete il video E noi come la so Ci vediamo ad un prossimo video Bella